E' osservato 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 Papi, a che cosa pensi? Pensi a arrivire lì? Oppure no? Quando io e il mio amor le noci abbiamo fissato Tutto il mondo unito dietro ci ha fischiato Ma ieri un posto gaio abbiamo fatto Sempre io conduco una attività in interrotto di lavoro E se qualche volta mi succede di guardare in faccia Una bella ragazza Meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay